Time Vision cerca un ingegnere elettrico a Salerno. Time Vision cerca un carpentiere esperto a Ferrara. Infine si cerca un assistente di direzione a Meta di Sorrento. Bentrovati con il Tg lavoro di Time Vision, il format che vi mantiene aggiornati su tutte le offerte di lavoro presenti sul territorio nazionale. Un'opportunità per le aziende per trovare il giusto professionista adatto alle proprie esigenze. Time Vision cerca per azienda cliente un ingegnere elettrico. I requisiti richiesti sono laurea ingegneria elettrica, ottima conoscenza software disegno e calcolo, esperienza settore fotovoltaico. Il luogo di lavoro è Salerno. Time Vision cerca per azienda cliente un carpentiere esperto. I requisiti richiesti sono conoscenza disegno tecnico, esperienza settore costruzioni, predisposizione al lavoro in team. La sede di lavoro è Ferrara. Infine si cerca per azienda cliente un assistente di direzione. I requisiti richiesti sono conoscenza lingua inglese, laurea, materie giuridiche o economiche, esperienza nel ruolo. La sede di lavoro è Meta di Sorrento, in provincia di Napoli. Sei interessato alle nostre offerte? Clicca il link che vedi nell'info box oppure digita lavoro.timevision.it. Le aziende interessate a mettersi in contatto con i professionisti possono contattarci e noi ridurremo le distanze con i potenziali candidati.